L'iniziativa è stata fortemente voluta da tutto il corpo docente perché abbiamo avuto quest'anno la fortuna di avere una professionista, un'insegnante di pieno sorte che è stata assegnata alla nostra scuola presso la scuola dell'infanzia. Da qui l'idea di fare un progetto in continuità per sviluppare numerose competenze, da quelle sociali a tutte le competenze di cittadinanza e anche una competenza in inglese partendo dai due anni e mezzo fino ai 10-11 anni. Un progetto che ha abbracciato l'intera comunità educante di Calabricata perché sono stati coinvolti indirettamente anche i genitori che hanno avuto modo di apprezzare l'iniziativa e di condividere con loro tutta la fase della preparazione. Io sono felice e orgogliosa e devo dire mi sono emozionata. I bambini questa volta mi hanno visto piangere, io che sorrido sempre, ma è stata veramente la gioia e la felicità di vedere come da poco si può fare una grandissima cosa solo se c'è la condivisione tra i docenti, un rapporto empatico tra di loro e soprattutto l'amore e la passione verso i bambini. Allora lì saremo veramente vincenti e potremo lavorare alto. L'altra cosa che voglio dire è che ringrazio in maniera particolare il Rotary Club perché ha approfittato di questa iniziativa per donare ai ragazzi, ai bambini di questa scuola un karaoke perché ne erano scudisti. Quindi questo è di buono auspicio perché si possa fare un'iniziativa simile, anche una promessa che faremo noi ai genitori di farne un altro per annunciare la primavera, aperto al pubblico perché meritano di essere, di emozionare anche gli altri, non solo me. E mi ha la morte, lungo le vie, lo zampognano suonando va, in ogni cuore nasce una piazza, la bella piazza di un grande amore. Pulero, pulero, zampognano mia, sopra la paia, la gloria di Gesù, dice alla gente, lo zampognano, che le emozioni gli tocca il cuore.